E boom, arriva lo sciacquone, un piccolo sciacquone su Bitcoin, ma ci stava dopo una salita che era vertiginosa da tanto tanto tempo, però questo sciacquone è anche arrivato in concomitanza con alcuni problemi legati alla questione ciclica, ad esempio la questione che a dicembre ha previsto questo massimo, e massimo è stato fatto nella giornata dell'otto, proprio dell'immacolata, nel venerdì notte è stato fatto questo massimo, ma potrebbe anche non bastare al mercato, questo però lo scopriremo solo vivendo, come si diceva una famosa canzone, ma lo scopriremo anche tra poco. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, e oggi è una giornata particolare perché dobbiamo andare a parlare di quella che è la questione di questa giornataccia di Bitcoin meno 4,49, meno 4,50 nella giornata di oggi, non è l'unico, tutto il mercato cripto è rosso, è vero che si può vedere anche nel classico crypto bubbles ragazzi, tutto 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 rosso, ma a livello settimanale, quindi se si considerano invece, vedete più giorni che cambia radicalmente la questione, ci sono anche delle crypto che sono state iper performanti in questa fase, però alcune cose vanno spiegate ragazzi, perché ci sono due possibilità in questo momento che il mercato ha davanti in termini di ciclo trimestrale di Bitcoin, che un po' cambia anche tutto i connotati di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi, e sì perché da un punto di vista tecnico c'è la questione dell'ETF eccetera, però c'è anche una questione tecnica ciclica, cioè la scadenza del ciclo annuale di Bitcoin che ancora deve chiudere se siamo in una situazione ciclica standard, oppure in ogni caso dovrebbe chiudere un movimento centrale di un binario, insomma di un biannuale eccetera, ma questo lo vediamo tra poco. Allora ci sono tante cose da fare, poi c'è un altro dato, un dato macroeconomico rilevante proprio questa settimana che andiamo a vedere nel calendario economico e che esce nella giornata di domani in pratica, e poi c'è anche un'altra questione, cioè quella legata ai tassi della Fed che però insomma sono stabiliti più o meno, dovrebbero essere standard e non aumentare ovviamente, ma neanche diminuire. C'è un regalo per voi, ci avviciniamo a Natale, un regalone, allora è iniziata una competizione, un trading contest su BitGet solo per la nostra community ragazzi, con dei premi che sono interessanti perché sono in totale molte premi 6600 dollari che però vengono distribuiti tra più utenti, ma in pratica qui avete primo, secondo e terzo classificato per due competition differenti, una per volume e l'altra per rendimento. Questo è corretto da fare ragazzi, non solo perché l'exchange ovviamente vuole vedere i volumi e questo ci sta, però è anche corretto perché se io vado a mettere 100 dollari in una trading competition e performo facendo leva X, insomma arrivo al 2000%, vinco la competizione con un solo trade, ovviamente dove in sostanza ho giocato di fortuna, non d'astuzia. Se invece io vado a vedere quello dei volumi e ho volumi molto alti, allora sono stato un bravo trader. Questa cosa l'andremo a vedere in più in là, quindi competition per volume 500 dollari al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo e quella per profit e loss uguale, quindi vincono entrambe le categorie e si possono vincere o tutte e due o una e o una, cioè quindi potete classificarmi in entrambi. È gratuito completamente, vi lascio il link in descrizione, basta che vi registrate dal link trading on, quindi quello che vi do io ragazzi non alla competition, dovete essere comunque già registrati dal mio link referral, quindi possono partecipare tutti gli utenti che sono registrati a BitGet dal mio link referral o chiunque si sia per registrare nuovamente. E basta registrarsi poi alla pagina, quindi cliccare qui su accedi, potete farlo solo da desktop, non da mobile, quindi dovete usare il desktop per questa operazione. Una volta che siete dentro il vostro conto viene agganciato alla competition, tutto quello che fate viene registrato e parteciperete a questa competizione. È veramente interessantissima perché sapete che noi lo facciamo ogni anno verso Natale, in questo caso BitGet ci ha aiutato con tutto il suo marketing genio, tutto il suo meccanismo. Per volume già ci sono i primi trade, ovviamente iniziata da un paio di giorni, quindi niente di che, anche per rapporto PIR ci sono i primi trade, ma ripeto, anche con i ribassi, per esempio gli ultimi due non hanno mai operato, anzi gli ultimi tre, quindi ovviamente sono fittizi in questo caso. Però c'è anche già un più 90% abbastanza interessante. Allora vi lascio il link in descrizione, non vi perdete la competizione, vi serve ragazzi per mettermi in gioco ed è bellissimo, e poi i premi sono molto ghiotti perché 500 dollari se vi classificate, ma anche 100 dollari sono interessanti. Poi a prescindere chiunque si registra ottiene un bonus di una decina di dollari, se depositate almeno 100 dollari, quindi in pratica poi il resto dei premi vengono distribuiti a tutti gli altri utenti. Ovviamente limitata a 500 utenti massimo. Link in descrizione, ma ci aggiorneremo su questa competizione man mano che passerà il tempo perché scade a fine mese di dicembre e sarà bello vedere proprio come si evolvono le cose. Io ho già in mente dei contenuti da fare su questa questione. Allora andiamo a vedere il dato Bitcoin. Prima giornata vera e rossa dopo tantissimo tempo. L'ultima giornata di questa entità risale a 21 novembre con un meno 4,59 e poi il 16 novembre. Teoricamente in entrambi i casi il mercato era andato a chiudere una struttura ciclica importante. Qui c'è da fare una seria considerazione ragazzi da un punto di vista ciclico. Quindi da un punto di vista di analisi tecnica invece vi rilancio i miei video precedenti perché lì vi ho indicato quelli che sono le resistenze in questa fase e che la resistenza intorno diciamo alla zona 44,45 è molto dura ragazzi, ok? Da battere perché è la chiusura degli annuali, degli ultimi due anni. Insomma la open dell'anno scorso è la chiusura dell'anno del bull market. Quindi superarla di sdlancio a fine anno era difficile. Sarebbe stata la prima volta nella storia. Ve l'ho detto sicuramente insomma Bitcoin l'avrebbe sentita a prescindere. Così è stato. La questione però dovrebbe farci riflettere se questo movimento ribassista è l'inizio di un qualcosa più duraturo oppure no? Questa è la vera domanda. Intanto tolgo i miei vecchi livelli di buy oppure no? Allora questa è la questione. Allora qui ci sono da un punto di vista ciclico due varianti differenti. Intanto qui siamo a 19 giorni dall'ultima questione qui di questo minimo a 22 di novembre. È troppo poco per un ciclo mensile secondo me quindi dire finisce qui è un po' poco. L'unico modo per farla finire lì in quel contesto lì sarebbe andare a spostare l'inizio di questo ciclo mensile alla 14 di novembre e quindi dire siamo a 26 giorni 11 di novembre e ci può stare. Questa idea ci starebbe in una delle due ipotesi di cui vi parlo adesso. Facciamo così. Iniziamo appunto proprio da questa qui. Allora se siamo ancora ancora nel vecchio ciclo trimestrale un ciclo trimestrale è un ciclo che ha circa 90 giorni più o meno la deviazione standard ciclica e dura più o meno tre mesi per quanto riguarda Bitcoin. Ora un ciclo trimestrale sappiamo che è iniziato a settembre e quello lo sappiamo per certo. Non sappiamo una cosa cioè se questo ciclo trimestrale è stato chiuso il 22 di novembre con 72 giorni un po' corti ma ci stanno oppure sta chiudendo proprio adesso in questo frangente. Ora teoricamente in entrambe le ipotesi ragazzi noi abbiamo lo stesso lo stessa logica da seguire. Questo ve lo dico perché è importante però sono due concetti diversi che poi lasciano spazio a due realtà differenti quindi a livello operativo non cambia più di tanto e ve lo dico alla fine del video però a livello teorico per il futuro il prosiego di questo movimento sì. Quindi se noi siamo in ottica di questa views ragazzi cioè del fatto che il ciclo trimestrale iniziato l'11 settembre di Bitcoin sta chiudendo in questo frangente chiuderà entro due tre giorni da oggi dopodiché inizia un nuovo ciclo trimestrale è un nuovo ciclo trimestrale teoricamente l'ultimo del ciclo annuale riguardatevi la versione ciclica di quattro quadranti ragazzi anzi facciamo così vi linko di nuovo quel video bellissimo sui quattro quadranti ciclici per capire un po' queste cosette in realtà essendo l'ultimo può essere l'ultimo dell'annuale andrebbe ad essere quello teoricamente debole debole non vuol dire che non può fare nuovi massimi vuol dire che tra minimo e minimo finale è spento questo significa per esempio vi faccio l'esempio molto pratico qui si è iniziato un trimestrale questo è un trimestrale fortissimo ragazzi no? qui è iniziato immaginiamo che abbia chiuso qui e insomma vedete che la distanza è enorme se invece addirittura non ha chiuso lì ma sta chiudendo adesso dobbiamo aspettare magari chiude in questa zona la distanza è enorme questo è un ciclo trimestrale fortissimo ma se noi iniziamo il ciclo trimestrale qui e facciamo una roba del genere questo non è un ciclo trimestrale forte perché è vero fa un nuovo massimo però dal punto di partenza al punto di chiusura la distanza sarà poca quindi quando io mi riferisco al concetto che il trimestrale potrebbe essere spento, debole potrebbe anche non essere ribassista e quindi andare addirittura sotto il minimo di partenza ma potrebbe essere spento cioè essere in barra di congestione o debole leggermente laterale ribassista perché deve andare a chiudere il ciclo annuale quindi ritracciare in pratica in sostanza tutta la questione dell'assetto ciclico allora la view che qui si stia andando a chiudere un trimestrale la scopriremo entro due tre giorni secondo me perché se chiude lo fa velocemente e secondo me riparte poi a razzo quindi prima ipotesi chiusura trimestrale ancora in corso non è stato chiuso quindi a novembre qui bensì sta chiudendo a quel punto anche la struttura ciclica mensile si va a delineare in concopitanza perché avremo un mensile che a questo punto non è stato allungato qui per chiudere il trimestrale ma è stato chiuso il 14 di novembre ripeto non cambiava niente a livello operativo perché tanto sempre long bisognava andare sia qui che qui e infatti insomma è stato quello il discorso e in questo caso vedete saremmo a 30 giorni ancora una volta più o meno di ciclo mensile che dovrebbe chiudere a momenti in questa struttura intorno ai 40.000 è qualcosa come sta facendo in questa fase da lì in poi inizierebbe quindi un nuovo trimestrale e qui già ragazzi se bitcoin fa una cosa del genere ci elimina magari il problema se è stato chiuso o meno il trimestrale ma vi ripeto da un punto di vista operativo in questo contesto specifico non cambia niente per la prima volta tra l'altro lo sai dire quindi a livello operativo sempre un long andrà fatto ve lo svelo tra pochissimo quindi restate qua sul pezzo ragazzi mi raccomando allora seconda fase da questo punto di vista ipotizziamo che invece il trimestrale è stato chiuso a novembre in questa zona 22 e qui è iniziato un nuovo trimestrale cosa sta facendo sta in pratica facendo un ritracciamento del mensile che potrebbe essere più corto in questo caso e quindi magari arrivare intorno al lunedì prossimo e girarci intorno in pratica cosa fa fa il ribassone poi perde tempo un pochino poi fa così e qui inizia un nuovo mensile ora una cosa del genere ragazzi non vincola in nessun modo a un movimento ribassista è vero questa è l'ipotesi più debole tra virgolette però non è così tanto debole rispetto alla precedente entrambe le ipotesi dicono una cosa come vi avevo promesso dopo la chiusura di questi cicli bisogna andare long cioè tentare l'ingresso long nuovamente perché perché il mercato può andare a puntare i veri massimi di questa fase può andare ragazzi questo non significa che lo farà perché i movimenti sono molto estesi e arrivare siamo già arrivati dove dovevamo andare vi ho detto già nei precedenti video da qui tutto fa brodo sopra i 40.000 41.000 tutto fa brodo però tendenzialmente vista la sua struttura ciclica attuale bitcoin se fa un minimo in questa fase non molto pronunciato cioè proprio un ritracciamento del genere rimane in mezzo a queste due medie mobili non sponda i 40.000 o se li sponda li recuperano in shadow immediatamente e quindi non ci chiude sotto in sostanza se chiude in questo quadratone qui in mezzo può avere tutte le velleità di andare a fare nuovi massimi ragazzi entro la fine dell'anno i primi di gennaio e non si scappa da questo punto di vista perché poi da lì riparte una struttura ciclica e può farlo dov'è il problema e qui attenzione perché da qui poi cambiano le situazioni per il prossimo anno ragazzi che se questo movimento risulta troppo esteso a ribasso se va a rompere questa media mobile ad esempio che la media mobile ha 21 giorni è importante quella media mobile lì ragazzi ovviamente non è che inverte il trend di lungo periodo no di medio lungo resta sempre longa però lo inficia nel breve quindi l'ipotesi che stiamo andando poi verso una struttura di chiusura ciclica annuale aumenta la sua probabilità questo significa che potremmo assistere a un mese di gennaio e febbraio debolucci o in barra di congestione se avviene questa cosa io invece quello che mi aspetto personalmente è che bitcoin faccia questo discorso qui cioè vada in pratica a chiudere una fase ciclica che può essere il trimestrale o il mensile e poi tenti di fare nuovi massimi questa è la mia idea poi bisognerà vedere se ci riesce se non ci riesce ovviamente cosa va a creare va a creare un'inversione di breve di short term perché magari fa una cosa del genere poi tenta e rigira quindi fa un più basso e quindi a quel punto attention please perché qui diventa complicatissima e pericolosissima non significa crashare vi ripeto questo è short term ragazzi quindi parliamo da qui poi a febbraio però c'è di mezzo la notizia dell'etf quindi una cosa del genere non la vorrei vedere proprio a gennaio anzi mi garberebbe assistere all'ultimo rally di bitcoin per chiudere patta e via con l'otto e farci passare anche un natale decente ma il mercato è su troppo e quindi non ce la farà ma io la moneta la lancio lo stesso ragazzi perché non si sa mai eccola qua lanciata la moneta è uscita pure quella giusta quindi attenzio che la moneta ci dice che va bene quindi speriamo che va bene va bene carrellata veloce invece a quelli che sono i dati per quanto riguarda la giornata di domani che vi dicevo esce l'ipc il tasso di inflazione per quanto riguarda gli stati uniti annuale prevista a 3.1 dovesse scendere tantissimo al di sotto di questo tasso previsto darebbe un po' ad un rialzo poi c'è il punk la conferenza mercoledì secondo me si giocano le vere carte perché da lì secondo me io sono convinto che Powell tenterà di calmerare un po' gli entusiasmi che vedono già il ribasso dei tassi ma è ovvio che questo ribasso ci sarà dal secondo trimestre ne abbiamo parlato mesi or sono perché ragazzi perché i dati i tassi interesse troppo alti per i titoli di stato non sono così sostenibili e perché il posizionamento anche sui titoli di stato nella curva lunga del insomma dei rendimenti sta già avvenendo certo non è stata una cosa proprio enorme che insomma ve lo faccio vedere subito chissà che cosa è successo però stanno già scendendo i rendimenti sulla curva lunga ragazzi e vi faccio capire eccolo qui il grafico questo è il rendimento del ventennale del titolo di stato americani e guardate la struttura ribassista questo ha un significato enorme per bitcoin ragazzi non è che stiamo parlando di altro meno 20% fino al minimo poi sta rimbalzando adesso meno 16% il rendimento dei titoli di stato americani a scadenza lunga ventennale questo ha un enorme impatto sulle cripto perché questo grafico ci indica se i tassi verranno abbassati e quindi potremmo avere un doppio turbo sul mercato delle cripto perché avremo l'albing e l'immissione di liquidità che ha funzionato e funziona molto bene per i mercati delle cripto ragazzi quindi questo bisogna comprenderlo e questo grafico vi dice se è vera questa cosa e questa tendenza ribassista del rendimento è molto significativa il rendimento è passato da un massimo del 5,40 a un minimo del 4,38 ragazzi non è poco significa che sono mani forti che stanno agendo in questo momento quindi si aspettano il ribasso dei tassi secondo me Powell nella giornata di mercoledì dirà darà un po' calmerà diciamo un po' queste reazioni però sostanzialmente i mercati vedranno quello che devono vedere perché non schizzeranno magari alle stelle però è ovvio che i tassi poi scenderanno anche per una questione legata a come vi dicevo al tasso di interesse sui titoli di Stato intanto per la giornata del Funk l'attesa comunque di invariato tasso di interesse invariato ma questo lo sapevamo detto questo ragazzi poi ci sono attività di una giornata di giovedì ma niente di preoccupante allora siamo in attesa quindi di questa struttura di Bitcoin vi faccio vedere anche la questione del ciclo mensile della scusate candela mensile per farvi vedere com'è importante questo mese guardate la creazione della shadow importante nell'ambito di un mensile perché era partito senza shadow ribassista ora chiudere un mensile con una shadow troppo pronunciata e quindi accorciarsi vedete al di sotto per esempio di questo livello sarebbe molto negativo stiamo parlando dei 39.000 qui quindi chiudere un mese al di sotto dei 39.000 innescherebbe con una figura di Morningstar quindi una inversione insomma di tendenza molto grave da un punto di vista mensile con una figura di analisi tecnica che potrebbe essere diciamo delicata ecco diciamo che non la vorremmo vedere questa Morningstar rovesciata o meglio per alcuni diciamo Nivingstar ragazzi non so se l'avete o vi ricordate ma si struttura diciamo con un corpo molto stretto e una lunga shadow rialzista è una Morningstar invertita ovviamente perché in questo caso siamo alla livello rialzista allora detto questo quindi dovremmo attendere secondo me domani e dopo domani per avere un po' il dato secondo me se domani e dopo domani facciamo un minimo interessante può essere interessante la fase di ripresa i giochi sono fatti per questa fase probabilmente i miei sistemi long che sono attivi da 20 e 28 mila circa usciranno oggi perché prenderanno profitto dopo questa grande enorme cavalcata e poi il gioco si rimetterà quindi in circolazione vediamo intanto come va fatevi sapere come state gestendo questa parte molto importante la gestione delle posizioni in questa fase perché appunto come vi dicevo sono e saranno settimane rilevanti tra domani e dopo domani verifichiamo questa cosa poi c'è il ingresso la possibilità il trade che può portare ai massivi storici ma va gestito da trader ragazzi non fate queste cose se non siete formati perché vi fate malissimo ok con questi mercati allora formazione prima di tutto se no fate quelle cose piccole iniziate a capire appassionatevi della materia è molto bello questo tipo di modo di ragionare per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video e ovviamente se non vi iscrivete alla competizione di trading mi offendo personalmente perché dobbiamo essere in tantissimi ragazzi io ci tengo veramente è una cosa molto bella vi lascio il link è gratis dai vi danno il regalo e ciao ciao